Cari inquilini del castello, questo è un video un po' diverso dal solito. Un po' di tempo fa avete visto sul nostro canale comparire dei video nuovi. Alcuni di voi però si sono un po' preoccupati dicendo ma che cosa sta succedendo a Princess Castle? Niente, stanno succedendo delle cose bellissime. Stiamo infatti andando in tv tutti i giorni con un video ogni singolo giorno su tantissime reti, tra cui Sky, tra cui il digitale terrestre, ma anche delle tv locali. Nasce in questo modo Tech Princess TV che vuole raccontare la tecnologia anche a coloro che di tecnologia non ne sanno praticamente niente. Vogliamo quindi con queste pillole raccontarvi un servizio nuovo, anche vecchio ma che magari qualcuno non conosce, così come prodotti, prodotti di ogni genere che possono aiutarvi nella vita di tutti i giorni. Riteniamo che questi video di Princess Castle siano davvero ben fatti, di un'ottima qualità e per questo motivo non vogliamo che nessuno di voi li perda. Ecco perché abbiamo deciso di caricarli anche sul nostro canale YouTube. Non sta cambiando niente se non in meglio, perché, ripeto, vogliamo raccontare a tutti che cos'è la tecnologia e quanto è bella. Su Princess Castle continueranno ad esserci i nostri video, quelli soliti, quelli che tanto vi appassionano, quelli per cui ci mandate tantissimi messaggi di amore, di peace and love e di tante altre cose. E anche quelli cattivi ci ho mandato ogni tanto, ma vi vogliamo bene lo stesso. Quindi non mancheranno i gameplay, i nostri vlog, i video in giro per il mondo, tutto quello a cui eravate abituati. Tra qualche giorno infatti partiremo per le tre di Los Angeles, vi porteremo con noi, vi porteremo all'interno della fiera, vi porteremo a fare dei giri a Los Angeles con noi. Quindi ragazzi state tranquilli perché nulla sta cambiando. Ripeto, noi continuiamo a volervi bene. Comunque fateci sapere, dateci sempre il vostro feedback, perché per noi è davvero importante. La vostra opinione è importante. Voi pagate l'affitto tutti i mesi. Lo fate, vero? Lo fate, vero? Ecco, noi sappiamo che ci volete bene. Quindi un bacio e un abbraccio a tutti. Grazie ancora per essere sempre qui con noi e a supportarci. Ciao!